Ciao a tutti da Cristian Tijet, salutatore del blog, eccomi qui con il grande Rocco Gigolo Buonasera, buonasera a tutti, siamo qui ad Aprilia, abbiamo fatto una serata bellissima insieme a Luciano Lembo, a Gabri Gabra e insomma c'ero anch'io stanno passando dei palloncini adesso Li salutiamo Li salutiamo, ci sono anche delle donne e come dice Rocco, donne vostro marito è alla frutta io sono il tiramisù Perfetto Rocco, salutiamo tutto il mondo del social network, Youtube, MySpace, Facebook, Twitter e ricordiamo dove ti trovano? Mi trovano a casa mia, non sto scherzando, mi trovano praticamente anche sul mio Facebook Rocco Il Gigolo, Rocco Ciamoli e sono sempre molto attivo Vi aspetto tutti quanti, un saluto caloroso e ci vediamo a Zelic Ciao, ciao, ciao Ciao a tutti da Cristian Tijet, salutatore del blog Eccomi qui con il grande Rocco Gigolo Buonasera, buonasera a tutti, siamo qui ad Aprilia, abbiamo fatto una serata bellissima insieme a Luciano Lembo, a Gabri Gabra e insomma c'ero anch'io stanno passando dei palloncini adesso Li salutiamo Li salutiamo, ci sono anche delle donne e come dice Rocco Donne, vostro marito è la frutta, io sono il tiramisù Perfetto Rocco, salutiamo tutto il mondo del social network, Youtube, MySpace, Facebook, Twitter e ricordiamo dove ti trovano? Mi trovano a casa mia, non sto scherzando, mi trovano praticamente anche sul mio Facebook Rocco Il Gigolo, Rocco Ciamoli e sono sempre molto attivo Vi aspetto a tutti quanti, un saluto caloroso e ci vediamo a Zelic Ciao, ciao, ciao